Un concorso bandito per fare il primario della Sores interrotto, sospeso, una chiamata ad personam del dottor De Monte che di fatto lascia sguarnita la terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Due strutture, Sores e terapia intensiva, che avranno due facenti funzione, riteniamo questa cosa veramente molto grave. E' così che il medico e consigliere regionale dei cittadini, Simona Liguori, è tornata oggi in consiglio regionale a ribadire la contrarietà condivisa da Centro Sinistra e Cinque Stelle sulle procedure che avevano portato alla nomina di Amato De Monte alla guida del Sores e sul fatto che questi all'epoca non si fosse ancora sottoposto alla vaccinazione anti-Covid poi effettuata degli ultimi giorni. Dello stesso avviso il PD. Non si tratta di invasione della politica in questo caso da parte nostra ma si tratta certamente nel chiedere chiarezza sul perché un concorso che era in atto con la giuria già insediata di punto in bianco è stato cambiato orientamento ed è stata nominata una persona ad hoc. La mozione contraria alla nomina, respinta dalla maggioranza dei consiglieri, è stata commentata così dal vice governatore con delega alla sanità Riccardo Riccardi. La Sores avrà un grande direttore di grande esperienza del quale non condivido niente della campagna vaccinale. Vedo che la politica vuole inserirsi in questo, addirittura scegliendo chi va e il modo con il quale i nostri primari da anni vengono scelti, lo vogliono decidere loro. Io credo che questo non sia giusto e questo non avverrà. A mettere in discussione che una figura professionale come quella del dottor De Monte, che è primario non so da quanti anni, debba fare un concorso per dimostrare quando la norma gli consente di essere spostata da una statura all'altra, mi sembra più una provocazione che cerca di andare avanti col solito teatrino della politica.